Buonasera, un aggiornamento sulla situazione sanitaria con i dati che ATS comunica quotidianamente ai comuni. Nell'ultima settimana non si è registrato nessun nuovo positivo. Resta confermato il totale di 231 cittadini e residenti a Vimercate che hanno contratto il virus da inizio epidemia. Di questi 181 risultano ad oggi negativi al tampone, mentre 10 cittadini sono ancora positivi al virus. Purtroppo in questa settimana mi è stato comunicato un decesso tra i positivi, quindi il totale dei decessi tra i nostri concittadini sale a 40. Crescono invece i cittadini di Vimercate in quarantena domiciliare, che da qualche giorno sono arrivati a 19, con previsione di fine provvedimento tra il 15 e il 22 luglio. In questa situazione stiamo aspettando una nuova ordinanza di Regione Lombardia, che dovrebbe prevedere la possibilità di non indossare le mascherine all'aperto quando siamo in una situazione di garanzia del mantenimento della distanza. In ogni situazione in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza o in locali chiusi, sarà ancora obbligatorio indossare la mascherina. È importante mantenere queste abitudini, perché i dati ci confermano, purtroppo, che il virus è ancora presente e la situazione in molti Paesi dimostra che non possiamo abbassare la guardia. Oltre all'attenzione al virus, oggi posso comunicarvi che è stato pubblicato il primo bando di sostegno al commercio che mette a disposizione 225 mila euro in contributi a fondo perduto per le attività di Vimercate, con fatturato fino a 200 mila euro che hanno dovuto chiudere, in base ai provvedimenti del Governo, per un periodo di almeno 15 giorni durante l'emergenza sanitaria. C'è tempo fino al 23 di agosto per presentare le domande e vi invito a leggere tutte le informazioni sul sito del Comune di Vimercate. Chi all'app Municipium ha ricevuto direttamente la notifica sulla pubblicazione del bando. Si tratta di una prima importante misura, portata avanti con rapidità da parte dell'amministrazione, a cui ne seguiranno altre dedicate alle attività che hanno sofferto per la chiusura forzata e che non rientrano in questo primo bando, pensato principalmente per le attività più piccole. Sappiamo che il commercio va sostenuto non solo con contributi, ma anche favorendo gli acquisti da parte dei cittadini. Per questo motivo vi invito ad approfittare dei giovedì di luglio in cui i negozi del centro di Vimercate saranno aperti fino alle ore 22. Tra i motivi per venire a Vimercate, da domani si aggiunge anche l'attrazione del Vimercate Festival. Quest'anno avremo almeno due proposte di spettacoli ogni sera dal 15 al 26 luglio, con nomi importanti a fianco di spettacoli delle associazioni culturali della nostra città, cui viene dato un sostegno e riconosciuto un ruolo importante nel Festival. Gli spettacoli sono tutti gratuiti e offerti dall'amministrazione comunale, ma per ragione di sicurezza il numero dei posti è limitato. Quindi invito tutti a visitare il sito dedicato www.vimercatefestival.it per le prenotazioni. Invito anche chi è prenotato, nel caso che non possa partecipare, a comunicarlo per tempo, in modo da poter cedere il posto a chi è in lista d'attesa. Ricordo ancora a tutti di restare aggiornati sulle novità che riguardano la nostra città attraverso il sito comunale e ad utilizzare i nostri canali digitali per richiedere appuntamenti con gli uffici o con me, o per richiedere molti dei servizi di sportello, come quelli demografici. L'accesso agli uffici, infatti, è ancora solo suo appuntamento, ma è possibile richiedere quasi tutti i servizi di spazio città attraverso il portale dei servizi demografici, cui si può accedere con speed, con la tessera sanitaria, se si conosce il pin e si ha un lettore, oppure chiedendo una password personale attraverso una mail a spazio città. Grazie.